Ciao Osteracadente, la vedi questa qui? È una panda, ma non è una panda qualsiasi, è la Fiat Panda Elettra che fu prodotta in serie a Torino nel lontano 1990. Raggiungeva la velocità massima di 70 km orari, una velocità di crociera di 50 e aveva un'autonomia che rispetto alle elettriche di adesso faceva ridere. Però già all'epoca la Fiat era stata in grado di produrre il primo modello e chissà che cosa avrebbero raggiunto se avessero continuato a investire nella ricerca e a migliorare questa auto, questa city car. Vedi questo è uno dei primi esempi che mi è venuto in mente. Poi più recentemente Mercedes aveva prodotto la prima auto a celle di idrogeno. Anche lì se avessero voluto probabilmente noi due oggi potremmo guidare un'auto ad idrogeno a emissioni zero. Però qualcuno ha deciso che dovesse essere sviluppata la tecnologia dell'elettrico e quindi oggi più o meno si può acquistare un'auto elettrica e utilizzarla. Tutto questo per dire che purtroppo non è il mondo del genio che inventa l'auto ad acqua e la possiamo usare perché anche dell'auto ad acqua senza andare nel complottismo se ne è sentito parlare. Però casualmente il progetto non è mai stato realizzato. Le prime auto, parliamo credo attorno al 1920, venivano prodotte ed erano resistenti e più leggere con la canapa. Poi casualmente la canapa qualcuno ha detto che non andava bene, che non era da usare e si è passati a utilizzare la plastica che era un derivato del petrolio perché qualcuno doveva venderci il petrolio in tutte le salse. Spero di essermi spiegato. Comunque ovviamente sono aperto alle opinioni di tutti. Un saluto a tutti da Marco Fayato, esperto del fotovoltaico. Ciao ragazzi, buona serata.